Ci sarà anche la scuola licatese di kickboxing Tana della Tigre, diretta dal maestro Biagio Nogara, al World Championship di Arti Marziali e Sport da Ring, che si disputerà allo Sport Complex di Amamet in Tunisia dal 30 ottobre al 2 novembre. Si tratta del Campionato Mondiale di Arti Marziali, che vedrà la partecipazione di ben 123 nazioni, cui atleti si confronteranno in 14 discipline. Stanotte già alle 4 siamo di partenza e quindi finalmente questo giorno è arrivato e così ci togliamo un po' di spine che abbiamo. La Tana della Tigre si presenterà alla Kermessi internazionale rappresentata da quattro atleti, Alexandrum Marin che gareggerà nella categoria 70 kg nel light contact e nel kick light. Stesse discipline per Onofrio Bottaro, che però sfiderà gli avversari nella categoria riservata agli atleti di 90 kg di peso. Peso medio invece per Luigi Licata, che concorrerà nella categoria 60 kg nel light contact e nel kick light. A chiudere l'elenco dei partecipanti della Tana della Tigre al Campionato Mondiale c'è poi Giulio Aquilino, impegnato nella categoria 65 kg full e light contact. Ci sono partecipanti 132 scuole di tutto il mondo, fra cui ci saranno 20 scuole della Sicilia, quindi la Sicilia sta portando un bel numero di atleti, fra questi ci siamo pure noi che daremo la nostra parte come ogni anno. Poi è un campionato che per noi è una cosa normale, perché questa è la quarta e dicesima competizione, a questi eventi che noi partecipiamo. Ci siamo preparati come gli altri anni, non abbiamo delle cose in più o in meno. L'ambiente in casa della Tana della Tigre è particolarmente carico e ormai a ridosso dell'inizio della manifestazione mondiale, gli allenamenti sono sempre più indensi. Il maestro Biagio Nogara sta curando infatti la preparazione dei suoi nei minimi dettagli e nulla è lasciato al caso. 20 in totale le scuole siciliane che parteciperanno alla kermesse di Amamet. Ce la metteremo tutta, sempre con umiltà, come dico sempre ai miei allievi, non avere quella presunzione, noi di sapere, perché andiamo sempre a imparare tutti i giorni, non siamo delle persone che ci sentiamo arrivati. Con quanti atleti vi presenterete ad Amamet? Allora io ci sto portando quattro atleti, c'è una scuola completa perché portare quattro atleti in una competizione così non è da tutti, quindi sono orgoglioso di aver preparato questi quattro ragazzi.